Bella a tutti, siamo tornati in questo nuovo video, è finita da circa una mezz'ora, barra un'ora, barra tre quarti d'ora la partita e stavo facendo un attimo un calcolo con Raniere alla fine dopo il derby perso abbiamo giocato otto partite, scusate, abbiamo giocato otto partite, ne abbiamo vinte quattro, pareggiate due e perse due diciamo che in realtà non abbiamo fatto male ovviamente, però la cosa che si può storcere il naso è sulla ventottesima giornata, che era con la spalla mi sembra, o la ventinovissima, una delle due che abbiamo perso e la trentesima in cui abbiamo pareggiato con la Fiorentina, perché Napoli e Inter, cioè Inter ci sta il pareggio e Napoli ci stava la sconfitta quindi abbiamo perso, sostanzialmente abbiamo perso 10 punti, però se noi avessimo vinto con la Fiorentina e con una cosa avevamo 5 punti in più, poteva essere un po' meglio diciamo, ecco comunque oggi la vittoria è stata una vittoria buonissima, se va a dire così perché ci ha aiutato ad andare avanti in questo percorso della Champions dove vedo, dove vedo, favorita per il momento, allora prima tra tutte l'Atalanta, cioè per il quarto posto ovviamente, poi per il terzo l'Atalanta potrebbe anche arrivare terza però dipende da oggi cosa fa l'Inter, perché se l'Inter oggi vince allora potrebbe veramente aver messo, penso proprio un'ipoteca perché comunque le squadre le terrebbe a 5-6 punti, quindi indietro e le giornate sono sempre meno per cui un passo falso ci può essere, ma lo vedo molto difficile e poi basta, quindi la Roma sta quarta, secondo me la Roma può arrivare in Champions però deve battere, cioè bisogna sperare che l'Atalanta faccia male per questo perché diciamo il Milan non lo vedo super in forma anche se potrebbe anche il Milan arrivare con i punti che ha, quindi diciamo è tutto ancora da vedere per cui mentre possiamo dire che il campionato per i primi due posti è chiuso e per i posti per la retrocessione praticamente due sono già segnati e manca l'ultimo, manca anche l'ultimo per la Champions praticamente quindi diciamo che il campionato è praticamente finito perché ci sono delle squadre che non possono arrivare in Champions e poi ci sono diciamo tre squadre per il quarto posto anche se dobbiamo mettere pure il Torino, ma il Torino è un po' già 5 punti in meno della Roma, pur se vincesse ne avrebbe 2 in meno con gli scontri diretti a sfavore, per cui non lo so, non lo so la Roma che oggi ha risvegliato Pastore, mamma mia Pastore per fortuna mamma mia poi ha preso pure una traversa, mamma mia per poco non entrava e che altro poi, poi che altro ha segnato? Fazio, Fazio, Fazio ha segnato per fortuna sua, perché veramente non ce la facciamo più veramente a, diciamo, a vederlo giocare male speriamo che si risvegli e poi anche Kolarov, che Kolarov secondo me per quelli che giocano a FIFA uscina anche Tots perché è il difensore, cioè il terzino che ha segnato più gol mi sembra, quindi è fatto forse più assist se ne ha uno comunque di quelli che ne ha fatti di più per cui lo vedo, lo vedo come un possibile uscente, vabbè e che altro dire? niente, alla fine la partita è finita 3-0 abbiamo giocato solo noi praticamente tranne ogni tanto qualche minuto magari di in cui il Kajar attaccava, attaccava, attaccava un po' però poi alla fine ce la siamo portati a casa questa è la cosa utile, già dopo 10-15 minuti stavamo già 2-0 quindi è una cosa ottima noi ne potevamo fare almeno 5 Kranjuka ha fatto delle buone parate potrebbe venire a Roma, speriamo però deve un po' migliorare ovviamente perché se no non si possono prendere 3 gol in una partita quindi speriamo bene e fatemi sapere voi cosa ne pensate commentate, spolliciate, likeate fatemi sapere voi e niente penso che le prossime due partite saranno decisive per capire chi sarà terzo, chi sarà quarto, chi sarà quinto almeno le prossime due poi forse anche no, penso alle prossime due perché poi dopo ci saranno solo 6 punti possibili per esempio la Roma se dovesse arrivare tra due giornate a 6 punti all'interno non potrebbe più arrivare terza ecco mentre invece per esempio il Milan e l'Atalanta no perché hanno un punto in più quindi non si dovrebbe aspettare l'ultima giornata comunque vabbè fatemi sapere voi cosa ne pensate commentate, spolliciate, iscrivetevi bella opere fred fred fred